...comune. Per carità, nessuno si allarmi, nessuno telefoni alla guardia medica. Qui non occorrono camice di forza per contenere questi gesti stravaganti. Siete di fronte ad un consesso di prestigiatori, o per meglio dire di illusionisti, riuniti ad Amsterdam. Il trucco c'è, ma non si vede. Chissà se riusciranno a nasconderlo anche ai loro colleghi, che sarebbe come dire far la barba al barbiere. Non consigliamo ai nostri amici di fare la partita scopone con tipi del genere. Sarebbero capaci di farsi arrivare il settebello da chissà quali recondite regioni dello spazio. Qui c'è un signore che ha risolto parecchi problemi. Giovanotti che vendete sigarette all'angolo delle strade, ecco come si fa in caso di allarme. Esamini pure la Militerpolis. Qui non c'è Veruna inglese, Veruna americana, né sciolta né a pacchetti. Se il monopolio non abolisce la tessera...